questi sono dischi originali nissan qashqai più due questi sono dischi originali sono stati usati molto bene infatti si vede che non hanno neanche un po di canale sono stati usati bene si vede che marca nissan scritto 14 mm da nissan sono stati un po puliti da un po di grasso sono molto molto belli e poco usati nel senso che la macchina si a 100.000 km però è stata usata sempre di con tanta cautela un pensionato che frenava molto poco insomma qua vi faccio vedere le pastille che sono ancora buone queste sono le pastille originale nissan qashqai vedete queste sono le pastille originale c'è anche il sensore di usura si vede che c'è ancora tanto finché arriva a livello di usura quando il sensore tocca sul disco inizia a fischiare però ce n'è ancora tanto no ecco queste marca originale nissan qashqai sono le pastille freno dietro quindi posteriore ecco hanno un po di colore perché le pinze sono state verniciate con rosso hanno preso un po di colore però sono molto molto valide guardate con spessore guardate sensore qua c'è ancora tanto quindi se qualcuno può essere interessato del disco originale nissan qashqai più 2 mi può contattare in privato eccoli qua sono molto molto veramente belli io li ho cambiato solo perché sono passato a dischi sportivi molto più costosi per un svizio così però dischi sono buoni buonissimi sono quasi nuovi non si vede neanche un po di usura no vedete tutto sono state solo un po puliti e basta spessore di questo disco qua si può controllare con un calibro e 14 mm questo do grado di usura al disco e su pastilli si vede che c'è ancora tanto finché arrivano a essere consumati ecco ragazzi se qualcuno è poi interessato ripeto può contattarmi